una cosa che durerà nel tempo buon pomeriggio bella getta ben ritrovati e ben ritrovati in questa live streaming allora ragioniamo un attimo caso emanuela orlandi per chi volesse recuperarsi le vecchie live punto esclamativo youtube l'abbiamo già trattata parecchio come sapete emanuela orlandi ragazza parita una cittadina del vaticano sparita ormai anni ed anni fa e la famiglia tutt'oggi sta cercando di scoprire qual è il colpevole ed eventualmente di trovare o il corpo o di trovarla viva da qualche parte le piste sono tantissime come avete visto sicuramente se conoscete la storia c'è chi ha parlato del coinvolgimento della banda della magliana in primo piano chi ha parlato di terrorismo chi ha parlato di pedofilia chi ha parlato chi ha parlato di tante altre dinamiche differenti ok quindi insomma ogni giorno esce fuori qualcosa ogni giorno qualcuno dice un qualcosa di nuovo e i depistaggi sono l'ordine del giorno ultimamente non so se l'avete sentito ci abbiamo fatto una live intera che trovate sempre su youtube si è si è parlato proprio del di alcuni audio che sono usciti fuori ma non solo lui non solo lui banano c'è un racconto di pietro orlandi dove parla con delle guardie delle guardie svizzere che gli dicono guardi noi secondo noi non è stata pedofilia perché abbiamo parlato con quei vescovi o quelle persone del vaticano che fanno queste cose ci hanno assicurato che loro non hanno fatto nulla quindi insomma è una storia molto molto intricata e questa l'ultima volta avevamo sentito gli audio di una persona della banda della magliana avevamo sentito delle novità insomma il caso era stato molto molto confusionario perché non si capisce bene da dove arrivino le fonti non si capisce bene se la chiesa allora quello che non si capisce si parla di terrorismo al di fuori della nostra nazione quindi un terrorismo internazionale credo sia una pista da escludere si parla di magari una grande associazione mafiosa che ha usato la banda della magliana come braccio per ricattare il vaticano è un'opzione si parla del vaticano stesso che a un certo punto si è trovato invischiato in qualcosa di particolare perché c'era qualche vescovo che c'era il vizietto di andare con le minorenne quindi c'era un grande giro di prostituzione enorme ed è per questo che nonostante tutti gli sforzi si è arrivati a questo può essere anche questo insomma le vie sono sono tantissime io credo ma questa rimane la mia idea che di tutta la roba che abbiamo sentito c'è solo una certezza io credo che su questo nessuno possa dire il contrario il vaticano in centra e centra qualcosa sicuramente sicuramente c'entra in questa storia che adesso sia per i vertici di un ambito piuttosto che di un altro che sia il papa che sia un vescovo importante che sia il cancelliere che sia qualcuno è che sicuramente loro sanno e sanno quello che è successo si sa quindi questo è importante adesso ci vediamo la puntata che c'è stata l'altro giorno di chi l'ha visto e andiamo ad ascoltare quali sono le novità vi faccio proprio sentire da loro ci sarà pure antonio mancini detto l'accattone che è uno dei membri della banda ex membri della banda della magliana uno dei fondatori e quindi sentiamo un pochino che cosa succede sapendo che cosa è successo proprio familiare in questo caso che cosa è successo alla sorella di natalina manuela orlandi buonasera ad antonio mancini perché ci aiuterà ci aiuterà in questo percorso perché noi cerchiamo di capire insieme a voi ovviamente dobbiamo fare chiarezza chi è questo marcello allora quindi ci sono nuove cose che escono fuori ma tanto adesso faranno un recap quindi ascoltate della magliana che ha parlato e che ha parlato ha detto delle cose che infamanti su giovanni paolo secondo ma non solo sul papa ma anche su manuela e su un'altra ragazza e siccome antonio mancini ha fatto parte della banda della magliana ci potrà raccontare però io prima volevo dire una cosa a natalina cioè io trovo giusto che voi familiari pietro in particolare porti tutto quello che c'è anche se ci sono delle cose infamanti tutto quello che avete ricevuto perché poi ci devono essere gli inquirenti in questo caso c'è il promotore di giustizia del vaticano diddi no quindi lui ha portato questa cassetta perché tutto quanto naturalmente deve essere non solo la cassetta perché è stato lì otto ore a parlare esatto ha portato pure una documentazione ha portato tutto quello che in questi anni ha raccolto i dubbi le notizie che ha avuto tutto quanto perché non stanno indagare come facciamo cioè facciamo i poliziotti di noi stessi cioè però deve esserci qualche di un altro che controlli bene tutto quanto ci possono essere state delle incomprensioni negli anni delle cose che non si sono chiarite perché non chiarirle tutte quante infatti noi speriamo pure nella commissione d'inchiesta che venga che faccia è certo che faccia passi in avanti allora no no ma quello che io volevo dire se voi familiari avete in mano un atto un audio un'intervista una lettera anonima qualunque cosa vi viene allora diciamo sta roba qui importante non so se avete sentito quello che vi dico è questo io ho visto ultimamente un'intervista di pietro orlandi che casomai dopo che ci vediamo questo qui faccio vedere altra robetta pure dove pietro orlandi vi ricordate quell'audio terribile dove si sente una ragazza che viene violentata dove si sente quella ragazza che dice no per favore per favore quell'audio che è terrificante non l'abbiamo sentito qui ed è stato ed è stata molto forte come cosa il fratello pietro orlandi e tutta la famiglia riconoscono il la voce di emanuela e quindi non credono che sia come è stato detto in altre occasioni che sia un uno spezzone di un film pornografico che è stato preso è stato utilizzato credono realmente che sia emanuela quella del del video insomma loro quel pezzo intervista pietro diceva così poi le cose possono cambiare magari escono fuori cose nuove però insomma qualora veramente non ci quella voce fosse reale insomma credo che la pista della violenza su minori su questo giro di pedofilia di prostituzione minorile generale credo sia diventi sempre più più importante il il fatto importante da dire è questo che sicuramente dentro e questo veramente chi lo nega nega l'evidenza c'è ci sono delle personalità importanti ecco perché quando uscì l'audio in cui venne accusato giovanni paolo secondo e alti vertici del quindi l'ex papa che è stato pure santificato beatificato si parlava di difficoltà di possibilità reali sul fatto che una grande carica della chiesa ci avesse questo vizietto perché perché immaginate una notizia del genere che cosa potrebbe fare l'istituzione della chiesa penso che sarebbe una delle botte più grandi perché non è come è successo per tante altre questioni lo horror cosa la banca qui si parla proprio della parte spirituale si parla della della figura che passatemi il termine che metaforicamente che in modo proprio simbolico rappresenta proprio la parola di dio e quindi è sarebbe anche una grande botta per proprio tutta la struttura anche a livello di marketing non solo a livello spirituale ma a livello proprio generale a tutto tondo quindi il fatto che ci siano stati così tanti depistaggi il fatto che ci sia così tanta confusione sicuramente ci porta poi sulla stessa via sulla stessa pista del fatto che qualcuno di importante prima o poi uscirà fuori adesso non sappiamo come non sappiamo quando ma speriamo che veramente si arrivi a un punto reale nella vostra cassetta della posta voi giustamente la date in mano agli inquirenti non è che ve la potete tirare tenere per voi che vengono prima vagliate per lo meno da noi in quelle che ci sembrano veramente assurde e poi il resto però Pietro ha chiesto tante volte ad essere ricevuto negli anni che sono passati adesso finalmente era arrivato a questa questo momento ed era stato ben felice di poter andare e portare tutto liberarsi anche lui di tutto quanto il fardello che aveva del quale non riusciva a parlare con nessuno allora guardate noi vi facciamo sentire questo questo audio no è una tra virgolette una chiacchierata più che un'intervista una chiacchierata e probabilmente chi stava parlando Marcello Neroni non tu mi senti Antonio perché io lo dico sempre le pistolettate ti hanno reso un po' sordo le pistolettate non l'età però allora io lo dico per chi non conosce Antonio Mancini ma ormai lo conoscete tutti e di solito il curriculum ha studiato non so a Oxford ha preso il master di qua e di là invece dico tu sei stato in galera perché sei stato un killer poi ha collaborato con la giustizia che è differente no da essere pentito comunque sei uno che nella banda nella banda della Magliana ci sei stato e dentro e conosci tutti e conosci anche questo Marcello Neroni ora che cosa succede che questo Marcello Neroni comincia a chiacchierare e ne parla con Alessandro Ambrosini ora guardate per non mettere bip dappertutto perché lui veramente fa un sacco di nomi però siccome la questione che è stata sollevata e di cui noi in maniera trasparente vogliamo parlare si parla del papa addirittura del papa santo di Giovanni Paolo II vi abbiamo estrapolato questa parte di questa chiacchierata allora ascoltate bene perché qualora quello che sentiamo fosse vero insomma la cosa è proprio sconvolgente allora Michele io credo che sia un po' complicato giudicare banalmente quello che dice non sono pentito Michele perché nella mentalità io penso che se lui sia vivo sia ancora vivo ci sono dei motivi e anche proprio per questa cosa del non dire un pentimento lui ha collaborato con la giustizia ciao barabba piano col disba sbatte fuori mette così perché ci sono delle dinamiche che non conosciamo da fuori sembra sempre tutto molto facile e questo non stiamo giustificando una persona che è stata un assassino che è stato un killer non sto giustificando però ci sono delle dinamiche criminali di cui bisogna tenere conto sempre ecco ripeto si è sepolto lì per grazia ricevuta ma per quello che dice quella pazza da Minardi ma quanti soldi gli ha dato? ma adesso è che il papa è un... il papa votiva no lasciamo perca comunque allora però andiamo chiamavano nell'ambito vaticano quando è servito qualcosa a chi si è so rivorti? vabbè De Peti si conosceva pure Marcin no 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 De Peti si conosceva e quella cosa De Galvi e tutto quello in piscia è tutto un altro giro facciamo è tutto un altro giro sì cioè allora votiva qui ci fermiamo un attimo poi riprendiamo allora vi ricordate questo è l'audio che noi avevamo sentito in parte era uscito su un blog poi si cercava la veridicità eccetera eccetera però l'avevamo sentito molto diverso avevamo sentito solo alcune parti non erano state messe tutte oggi le parti sono state sono aumentate quindi quello che viene detto è che la banda della Magliana c'entra ma non come aveva detto l'amante di Renatino De Petis che loro fondamentali la spostavano da una parte all'altra che l'hanno violentata e poi l'hanno messa dentro una betoniera vi ricordate tutta la storia la situazione è molto molto differente una delle persone che è più è questo questo è Young questo è l'audio originale il primo che abbiamo sentito era parziale questo invece sarà tutto quello che è uscito adesso lo faranno sentire qui l'accusa è mastodontica non si pensa più a una grande figura ma è addirittura Giovanni Paolo II andiamo qui c'è la cosa più infamante nei confronti del Papa ma anche nei confronti di tua sorella perché parla di Emanuela e di un'altra zozzetta e già sentire questa parola zozzetta diciamo per noi che ci occupiamo di scopparci è abbastanza schifoso fa insomma impressione già ti dà l'idea ma insomma ma chi è una chiacchiera al bar cioè tra l'altro Emanuela ma chi è l'altra zozzetta noi non sappiamo sempre se si riferisce non so a Mirella Gregori non lo sappiamo insomma però devo dire che fa impressione questo infangare una ragazza dire Emanuela e l'altra zozzetta e noi questo ci indigna Antonio io te lo chiedo perché tutti noi a un certo punto abbiamo scoperto che c'è un Marcello Neroni che fa parte della banda della Magliana e che saprebbe chissà quante cose su quello che è successo a Emanuela Orlandi e che cosa succedeva in Vaticano ma chi è questo Marcello Neroni? Innanzitutto io ci tengo a dire che quando ho letto queste cose su internet delle dichiarazioni delle Neroni la prima cosa che ho pensato è se questo è il confessore dei pedisti io sono Gianna Nannini detto questo bene diciamo allora quindi subito parte così dice praticamente va a boicottare insomma il messaggio della persona insomma però c'è da dire una cosa importante c'è da dire una cosa importante che in realtà potrebbe essere come non potrebbe essere e vi spiego perché allora a livello di dinamica effettivamente se ci pensate sembra strano che un confessore così importante una persona che ha un segreto così grande all'improvviso lo spiattelli così in questo modo anche se in una zona di comfort sembra più una spacconata più che la realtà però c'è da dire un'altra cosa che Antonio Mancini non è detto che sappia tutto perché come abbiamo fatto se volete sentirvi un po' la storia della Magliana fate punto esclamativo di Tocca dove la sto facendo appuntate la banda a un certo punto le varie fazioni Testaccini quelli della Magliana quelli Ostia Cilia cominciano a fare roba completamente separata tra di loro e infatti per esempio quando Danilo Abbruciati che era uno dei capi della Magliana viene trovato fuori Roma ucciso dopo che ha gambizzato una persona del banco Ambrosiano gli altri della banda della Magliana tanti non sapevano niente questo perché perché la banda a un certo punto comincia a fare tutti affari paralleli questo che significa questo che significa che anche se tu facevi parte di un gruppo non è detto che tu sapessi tutto mettiamo che io Michele e Federico facciamo parte del gruppo De Pedis non è detto che sappiamo realmente quello che succede le tecniche che venivano utilizzate anche per depistare per non far capire che una persona era una pedina importante per tanta altra roba sono tante e variegate ok quindi è un po' particolare la questione ok quindi lui adesso parte così ma potrebbe essere anche screditare quella persona non sapendo perché ricordiamoci che le vie e i posti paralleli sono differenti e se Antonio Mancini effettivamente è anche ancora vivo vuol dire che il suo ruolo era importante per determinate parti ma per altre no non so se mi sono spiegato quindi io capisco il suo dubbio lo capisco perfettamente e in realtà lo penso però come sapete cerco di vedere pure l'altro lato della medaglia cioè io per me Mancini qui ha detto un po' la verità perché addirittura il confessore segreto magari però non è detto che non l'abbia potuto sapere però bisogna vedere pure l'altra parte se no non siamo oggettivi nella discussione Neroni io lo conosco dagli anni 60 quando Roma non era ancora criminale ma solo malavitosa e lui era quello che siccome era forte di mane sapeva menare le mani era quello lì come definisco io gli ammorbidenti che andavano dai riottosi per renderli più maleabili che non volevano pagare cioè dai riottosi erano quelli che non volevano pagare quelli che non volevano pagare quelli che non cedevano agli autori gli ammorbidenti però di solito porto sempre la prova di quello che dico tu sai che io sono stato arrestato quando c'è fu la famosa operazione Colosseo e tra questi arresti c'era questo Marcello Neroni Marcello Neroni io siccome quando vengo arrestato i fogli dei documenti amo studiarli perché io che li ho vissuti riesco a cogliere qualche incongruenza forse meglio di un avvocato può essere anche che ne so per i mason però la cosa l'ho fatta io e in quelle carte due cose mi colpirono una era che questo Marcello Neroni parlava più che guardia che compagni suoi e la seconda è che Renatino a differenza di quando lui afferma oggi lo trattava come un tirapiedi perché c'è carta parla Villa Andorme un episodio dove Renato lo manda a come si dice a preavvisare dell'arrivo di una di una cagnotta di una tangente come si dice di una estorsione di una estorsione lui va va a nome di Renato naturalmente anche se andava a nome suo non lo so si poteva cogliere qualche cosa questo si mette paura questo esercente e dice va bene quando c'era da andare a stabilire l'entità della mazzetta mica ci ha andato Nerone ci ha andato dei pelli di se stesso e dopo essere arrivati all'accordo alla fine mentre si stringevano la mano raccomandò al tizio gli impose di non dire niente a Nerone a Neroni di questa avvenuta di quanto era sì sì allora insomma io capisco che una persona può essere pure la persona con cui faccio un determinato tipo di traffico un qualcosa di losco è chiaro che De Pedis volesse mettere in campo la propria superiorità supremazia e che gli altri fossero tutti tirapiedi una delle cose che contraddistingue Renatino De Pedis è proprio questa che lui tratta tutti come se stessero sotto di lui soprattutto dopo la morte di Giuseppucci quindi una cosa del genere ci sta pure è tipica di un capo quella di non dire anche se ti fidi totalmente di quella persona perché perché è un ambito che è molto più delicato qua non stiamo a parlare del oh ti ho raccontato quello che mi ha detto Alba che mi ha detto che gli ha detto Federico che fanno così qui stiamo a parlare di tangenti di soldi di uccisioni di droga di interessi è una cosa molto più complicata quindi potrebbe anche essere che Tonerone potesse essere stato utilizzato da De Pedis per spezzare qualche qualche gamba e quindi qualche informazione gli sia arrivata per forza quindi questa storia che ci ha raccontato insomma non è che si sminuisce chiunque era intorno a Renatino De Pedis perché Renatino De Pedis doveva imporre la sua supremazia la cifra in parole povere che significa questo che lui De Mero Neroni non solo non si fidava non lo stimava non gli era amico ma era nient'altro che uno da usare come ne usava tanto una morbidetta guarda questo si chiama negli atti giudiziari no poi allora siccome l'operazione Colosseo naturalmente noi ce l'abbiamo c'è Francesco Paolo Del Re e Maggiuliani che stanno in redazione possiamo appunto cercare questo che ci dice Mancini che sicuramente la carta ci sarà fra poco sicuramente me la tireranno fuori io vorrei aggiungere solo una cosa quel santuomo di De Pedis come direbbe Don Vergari quel santuomo di De Pedis come direbbe Don Vergari tra l'altro no io diciamo sono stata citata più volte perché quando dicevo che era un criminale che faceva parte della banda della Magliana mi è stato contestato che era innocente ma perché era morto prima e non è potuto diciamo partecipare ai processi tu con De Pedis ci hai lavorato tra virgolette come no il fatto che i reati tutti i reati che ci potevano fare tutti anche se sparava anche no all'epoca insieme faccio un nome abbiamo ucciso Tonino Leccese il cognato di Celis allora per chi non sapesse la storia chi è Tonino Leccese allora la banda della Magliana si arriva a un certo punto dove muore Giuseppucci e un Nicolino Celis che era uno dei capi della Magliana uno di quelli che aveva portato un pochino aveva avvicinato la camorra e che in carcere stava creando un'alleanza con la camorra organizzata di Cutolo porta la nuova camorra organizzata dice che vuole il doppio dagli altri e che vuole prendere in mano la situazione gli altri lui in quel momento non aveva abbastanza forza ma era temibile proprio per questa possibile alleanza con Cutolo e allora che succede che un giorno che viene gli viene dato il permesso un permesso per stare fuori cinque giorni di permesso lui va a un incontro con quelli della Magliana ok quindi e lui aveva sempre come guardia a spalla Leccese che era suo cognato vedendo che la situazione era tranquilla Leccese va in commissariato per firmare perché doveva firmare e poi dopo viene ucciso da un convoglio di persone della Magliana e appunto c'erano anche Antonio Mancini e Renatino De Pedis mentre poi Nicolino Selis fu ucciso da Crispino quindi Maurizio Abbatino e L'Operaglietto quindi questo è per farvi capire un attimo perché sennò sentite solamente dei nomi e non si capisce quindi il Leccese di cui parla era il braccio destro diciamo la guardia del corpo di Nicolino Selis uno delle teste importanti della Magliana ok adesso quando dico uccidere non significa che uno che spara siccome eravamo in tre io lui ha bruciato il più abile a guidare la moto era lui lui non doveva sparare ma doveva guidare comunque insomma un commando bello e buono allora noi ci siamo affermati che Marcello Nerone dice Papa Voitiva tra l'altro c'è chi sta lì e dice ma come il Papa mio il Papa tuo insomma uno ci rimane anche male a sentire queste cose allora noi andiamo avanti siamo rimasti colpiti allora sicuramente c'è da dare poco credito diciamo a quello che dice però siamo rimasti colpiti da questo appellativo Emanuela e l'altra zozzetta cioè si parla di due zozzette guardate noi che ci occupiamo di scomparse da tanti anni insomma ci fa inorridire che un familiare debba sentire queste cose e continuiamo con quest'audio che ha dell'incredibile pure insieme se li portava al letto se li portava all'interno del Vaticano quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza il segretario di Stato ha deciso di intervenire ma non dicendo a votiva poi l'euro e mezzo si è rivolto a chi a lui essendo esperto del carcere perché fa il cappellano riformatorio e fa il carcere si è rivolto ai cappellani del carcere il cappellano del carcere uno era calabrese l'altro un furbacchione hanno fatto altro che chiamare De Petise e gli hanno detto sta succedendo questo se puoi dare una mano punto e adesso sono tutte cazzate basta finito fine del discorso quello è diceminato e fu a tutte stronzate sembra un po' la corsa dire cazzate scusate il termine secondo te uno dello spessore di Marcello Neroni poteva sapere quello che succedeva in Vaticano ma assolutamente no ma adesso posso dire la mia adesso che voi dila il Papa voi dila la sera usciva by night andava che ne so forse andava al GQ poi la sera 3-4 come dice questo mancava solo la cocaina era Papa Belushi per chi non ha visto il film Blue Brothers i telespettatori allora ma scusa io non capisco chi è che mi ha messo subito la mano in bocca io ho detto oh ti stai allargata però vabbè allora io qui non è che mi trovo proprio d'accordo perché un potente indipendentemente da chi sia può vivere un giro di un certo tipo ci sono tantissimi potenti in qualsiasi ambito che fanno delle feste private che fanno della roba lì che rimane riservata addirittura fanno ci sono posti dove fanno firmare dei contratti dove c'è il rischio insomma dire che questa cosa non è proprio possibile noi possiamo dire tra di noi che è improbabile va bene vogliamo mettere in dubbio sta roba va benissimo vogliamo spaccarci in due parti uno che dice sì per me lo faceva no per me non lo faceva perfetto però questi sono punti di vista anche molto soggettivi su come ti te prendi su come ti ti contrapponi alla questione però per prendere un dato oggettivo non è impossibile come sta dicendo Mancini che ci siano persone anche alte cariche clericali che che facevano una roba del genere ok che facciamo una roba del genere allora è altamente improbabile che Neroni lo sapesse Fede però ti faccio un esempio allora metti che stiamo facendo supposizioni per me pure adesso avendo capito un po' il personaggio pure per me è improbabile però mettiamoci il beneficio del dubbio metti che Neroni che De Pedis organizza sta roba per il rapimento della Orlandi perché perché c'è sta roba qui perché c'è un casino perché così perché così perché eccola ok c'è tutto sto caos tutta la storia che conosciamo no? ipotetica a un certo punto c'è un intoppo c'è un imprevisto c'è bisogno di qualcuno che va lì spezza le osse e fa non è che uno va lì e basta cioè gli dai delle spiegazioni anche minime anche superficiali ma non è detto che tu non gli dica proprio nulla perché se ci pensate lui ha detto semplicemente voi di la faceva questo non è che ha detto perché l'ho visto che faceva questo perché De Pedis mi ha detto questo perché è così ha detto che c'erano dei predizzozoni che andavano con le ragazzine stop quindi è improbabile ma è plausibile no no ma questo è chiaro quello che però io ci tengo a precisare se c'è il nome di una persona scomparsa un familiare ha una cassetta un audio un'intervista un esposto anonimo una lettera anonima o chiaramente la deve dare a chi se ne deve occupare questo però riapre una ferita perché a me Natalina sto fatto delle zozzette mi ha dato un fastidio tremendo proprio sì sì ma nessuno si è scandalizzato perché hanno dato delle zozzette a Emanuela un'altra ragazza eventualmente a me è questo che mi dà più fastidio allora sì io lo capisco dal punto di vista della famiglia e capisco pure dal punto di vista della sciarelli però questa è gente che utilizzava le persone che ha ucciso milioni di persone con la droga che ha fatto ammazzato gente che ha fatto insomma non mi aspetto una cosa differente io capisco che a livello soggettivo se fosse stata mia sorella sulla cosa sicuramente mi sarebbe rotto il cuore però non credo sia questo il focus la cosa fondamentale secondo me è cercare di arrivare a una verità per ridare una dignità proprio a Emanuela e all'altra ragazza eventualmente di cui parlano però insomma io personalmente sto focus sulla parola a zozzette non è devastante certo che è devastante è denigrante al massimo sembra quasi colpevolizzare le due ragazze che poveracce sono state rapite sono state eventualmente per carità di Dio però non è questo il focus del tipo di discorso che stiamo facendo ora penso poi questa cosa mi meraviglia più da lasciarelli perché chiaramente la sorella il fratello emotivamente si è più preso e che dispiace negli anni no vi siete tutti siccome uno inguia sempre tanti rospi appunto noi abbiamo una certa educazione però nessuno si è mai scandalizzato quando certi giornalisti hanno detto che eravamo cresciuti in Vaticano perché dovevamo accontentare i prelati interni oppure che mio padre era consapevole di tutto lo so lo so che ti dà fastidio però ma il fatto è questo è il è stato sottolineato una volta è stato sottolineato due io penso che adesso la cosa più importante sia un'altra poi io vi giuro quando ho sentito l'audio a me pure mi ha colpito ho detto volete sapere che ho pensato il mio pensiero ho detto ma guarda sto fio della mignotta questo è stato proprio il pensiero che mi è venuto in testa ve lo dico sinceramente guarda sto fio della mignotta se dovrebbe pulire a bocca sto schifoso è venuto a me è chiaro però è importante però adesso focalizzarsi su altro a me pure ma ma me fa venire da vomita sta roba però che devi fa ovviamente ma schiaffi ovviamente ma schiaffi però insomma qui c'è una cosa molto importante qui bisogna capire se il papa no io che sono stronzo qualunque il papa andava veramente di notte andava a minorenni e stava in un giro di prostituzione minorile capite di che stavamo a parlare vi rendete conto di che questa è una cosa che sposta le masse è tipo uno tsunami cioè per una delle istituzioni più antiche più potenti della storia un'istituzione che può andare a pari livello con gli stati con le mafie cioè un'istituzione che è devastante che prende sia a livello spirituale che c'è un potere anche se diverso e diminuito nel tempo per esempio come era nel medioevo però enorme una ricchezza infinita uno spostafili immaginate pure la seconda guerra mondiale quanti monumenti religiosi sono stati risparmiati perché c'era la chiesa cattolica dentro quindi immaginate che tipo di potenza cioè quelle sono riuscite a bloccare della roba enorme capito è una cosa grandissima sì vabbè Michele andava a farsi gli affari suoi che io capisco Michele non ricomincia allora come vedi come io personalmente ho detto che quello che è stato detto è improbabile non cominciare a dire no perché non lo faceva non cominciare come al solito il fatto che tu sia una persona che crede e che crede nell'istituzione della chiesa cioè io non capisco come si possa essere così chiusi di mente vi giuro questo è proprio chiusura mentale cioè se domani il mio eroe dovesse la persona proprio che stimo no eroe scusate la persona che stimo di più al mondo dove io proprio baso il mio credo subisse un'ingiuria del genere è chiaro che farei fatica a credere è chiaro che cercarei di smontare di capire eccetera eccetera però andare a negare a prescindere perché chi non lo conoscesse Michele in altre live ha proprio negato a prescindere che possa succedere una cosa del genere è proprio chiuso è proprio una cosa chiusa è proprio da paraocchi quanto e anche cose peggiori perché ci hanno detto che era libertà di stampa allora io che cosa è successo che Francesco Paverri naturalmente è andato a cercarlo a Marcello Neroni perché volevamo capire appunto allora Barabba io su questo non so d'accordo perché dire che i papi nella storia hanno sempre avuto la gotta ed erano oppiomani e pedofili è un'affermazione estremista ed è sbagliata perché perché non è così questa è la stessa cosa di quella che oggi dicono i politici sono tutti uguali è tutto non è vero che poi ci sia un alto tasso di corruzione che poi ci sia quello che sicuramente sarà stato qualche papa figlio di una buona donna ma certamente come c'è la pedofilia all'interno della chiesa cattolica ma come c'è la pedofilia all'interno di qualsiasi altra cosa come c'è la pedofilia nelle sette come c'è la pedofilia nelle scuole come c'è la pedofilia nelle famiglie cioè so esseri umani ma dire che sempre è questo è l'estremo opposto è l'estremo opposto a Michele è un po' diverso lascia perdere il significato allora non dovete non sto dicendo che il significato ciao Mic che il significato non sia differente sto dicendo però che la chiesa cattolica stessa qualsiasi tipo di istituzione è formata da esseri umani questo sto dicendo è chiaro che se senti che la chiesa cattolica fa una cosa è chiaro che lo scalpore l'intensità siano completamente diversi però vi dovete ricordare che dentro ci sono degli esseri umani per Dio appunto comunque Michele no non può uscire a fare gli affari propri proprio per quello che ha detto adesso Nuru perché sei il cazzo di Papa il Papa non esce e va in giro per Roma e va nei locali e va a fare la roba così normalmente perché è un'istituzione particolare come non lo fa il Presidente del Consiglio come non lo fa Pinco Palla qualsiasi non stiamo a parlare di me o di te non stiamo a parlare di un Presidente dell'azienda stiamo a parlare del Papa quindi dire che il Papa usciva eventualmente per mettere il casco a gelatine e fa due pinne dun pennate con i motorini è follia io pure lo reputavo più credibile diciamo che non pensasse di essere registrato perché fa talmente tanti nomi veramente che che ce n'è per tutti e siamo andati siamo andati lì dove abita però non ha risposto a Francesco Paolo il Re e immaginiamo che abbia chiamato il figlio perché subito è arrivato il figlio e vediamo che cosa è successo il figlio di Marcello Nero ma no aspetta dire che il divieto di matrimonio e castità hanno attirato individui che già nascondevano le proprie attrazioni aspetta non è così stai a banalizzare una cosa che è più importante fermi tutti fermi tutti la vedofilia è una cosa particolare stiamo parlando di un qualcosa di molto molto particolare non e ci sono delle spaccettature differenti dire che c'è la diffusione per il divieto di matrimonio e castità è una cosa importante da dire no allora ma quale ma 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 che sta dicendo oddio 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 veramente vabbè va bene infatti non mi scandalizzò proprio perché sono uomo ma ci troviamo in un contesto in cui hanno scelto loro di stare sempre vista una regola e la sinfrangio non si può semplicemente spostare quella persona ma allontanarla ad esempio però a volte magari tu pensi di riuscire a fare una cosa poi non riesci però questa è un'altra storia però va bene così che è successo? riguardo al fatto di Emanuele Orlandi per trovare la soluzione del mezzo scusate allora c'è questo per la regia l'abbiamo messo dopo questo perché Francesco Paolo e Re è arrivato da poco in redazione anche un po' trafelato con un microfono adesso lo vedete tutto rotto eccetera adesso capirete perché se la regia mi fa un cenno se è pronta se Michele Bonica ci ha riversato come prontamente ce l'abbiamo? chiedo scusa se disturbo io mi chiamo Francesco Paolo del Re sono giornalista che volete? no glielo spiego che c'è? no io volevo chiedere se è possibile un aiuto allora subito beh insomma una partenza insomma con i piedi di piombo mi rendo conto che vengo mi rendo conto che sto venendo a disturbare e chiedo scusa io veramente non la voglio disturbare e le chiedo scusa mi sta a disturbare però perché se sono i cazzi di mia sono dovuto venire qua devo cercare i cazzi nostri qual cazzo da fare? noi vorremmo se è possibile parlare con suo papà non vorremmo sapere niente da nessuno il padre non fa niente dal 93 non c'ha avuto problemi no ma io io non lo conosco suo padre e non manco lo conoscerete fatele i carabinieri no 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 non vogliamo sordi non vogliamo niente non vogliamo solo guai le posso se lo dire una cosa poi me ne fa lasciateci perde non cominciate perché chiamo i carabinieri no lasciateci perde a noi non sappiamo niente le dico una cosa e poi vado via e va avvicinato perché battizzo il cane no no per carità vi attizzo il cane che è matto dalle gambe le volevo solo chiedere se sua mamma ci voleva raccontare qualcosa sull'Emanuele Orlando te ne ha capito ancora e te la nanna affanculo fuori io non ce la venite più mi scusi si è disturbato no no io così stavo prima cioè sto come stavo prima non è che li sto facendo ha registrato? il microfono è acceso che cosa ha registrato? fammi vedere ma sul microfono non vede niente ma no ma non faccia così abbiamo bisogno faccio così ma chi va credere da essere per venire un per cassa a casa nessuno ce ne andiamo guardi non faccia così non ce ne vediamo più vediamo che dica me lo restituisce per favore bell'ambientino eh Antonio questo allora ciao ciapato madonna Michele allora fe no no fe tu non puoi sapere non ti puoi permettere di giudicare come reagirebbe qualcuno per favore io non reagirei uguale per esempio Michele che stai a di ti prego esci da questo ego riferimento che tutto quello che fai lo farebbero gli altri le persone sono differenti togli il tuo ecocentrismo e cerca di aprire la porta perché se no non vai avanti perché magari se te lo faceva modalità iene avresti reagito così te lo fa mi scusi non volevo disturbare avresti reagito in un modo oppure dipendeva dal momento non lo puoi sapere non cominciate hanno cominciato loro eh non cominciate è quello il padre che ha fatto tutte queste dichiarazioni tra l'altro sulle due tra l'altro il microfono che metteremo in conto a Francesco Paolo del Re Bagi Gregoretti naturalmente no sto scherzando cioè il nostro Francesco Paolo del Re poi gli ha detto me lo ridai il microfono ma tu ti rendi conto Michele madonna Michele ma certe orte come cazzo fai cascare proprio le braccia io voglio mantenere la calma ma tu veramente mi levi proprio io ci sto provando ci sto provando ma mi levi proprio la pazienza questo ha detto che il papa se scopava le ragazzine ha dato delle zozzette alla Orlandia a quell'altra ma chi ha cominciato ma vuoi usare la capoccia ma uno per dei criminali devi avere pure pure un tipo di pietà e dice io non posso venire a chiederti spiegazioni ma vuoi usare la capoccia ma certo che ti presenti ma certo che mi presento ma santo cielo madonna santa oh porco due oh che capoccia cioè perché l'ha sbattuto per terra quindi lo vedete tutto rotto e credo che gliel'abbia tirato insomma però Francesco Paolo è in palestra è bello atletico questo diciamo è l'ambiente tra l'altro una cosa strana perché dice noi non vogliamo soldi ma chi gliel'ha chiesti i soldi noi non paghiamo nessuno quindi noi dice non vogliamo i soldi comunque ci ha stupito questo fatto e allora io vorrei farvi capire questa sera che cosa deve passare una famiglia sulla quale mai bisogna gettare del fango no Natalina perché perché voi siete le vittime siete davvero le vere vittime allora che cosa sembra sempre esattamente incredibile cioè è assurdo cioè chi l'ha visto che sta a fare gli interessi della famiglia Orlandi chiesto a vittime devi tener conto della sensibilità di quello che ha parlato di tua sorella come se fosse una mignotta io devo avere sensibilità follia allo stato puro follia allo stato puro che siamo quelli che ci dobbiamo giustificare per qualsiasi cosa esatto voi non vi dovete giustificare e soprattutto non bisogna gettare del fango su nessuno ovviamente men che meno sul Papa ma insomma che ha avuto naturalmente anche Papa Francesco poi insomma si sono rivoltati tutti per le parole di Marcello Neroni allora che cosa succede perché noi arriviamo alla banda della Magliana perché arriviamo a te perché arriva questa famosa telefonata che ci parla di De Pedis perché poi da lì tutto quanto ha inizio arriva in redazione quando ci decidiamo e io chiamo Natalina e le chiedo se è d'accordo e lei quel giorno mi dice voglio capire dove andate a parare proprio perché ne avevano sentite tante di fango tu no mi hai detto guarda vediamo di capire dove andiamo e io ho detto cerchiamo di farvi aprire questo caso il caso si riapre con questa telefonata riguardo al fatto di Emanuele Orlandi per trovare la soluzione del caso andate a vedere che è sepolto nella grippa della Basilica di Santa Polinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca allora Renatino Enrico De Pedis che tra virgolette lavorava con Antonio Mancini e all'epoca aveva una relazione con la Minardi Sabrina Minardi l'ex moglie del Bruno Giordani l'ex moglie che non sarà contento di essere diciamo citato in questo caso però lei è una bellissima donna una bellissima giovane donna e naturalmente quando ci arriva questa telefonata noi cerchiamo di incontrarla e quando la incontriamo è completamente diversa è gonfia si vede che ha avuto una vita che non è una vita normale non è una vita ma ragazzi in chat andate avanti tanto Michele è così lo fa apposta lui ama provocare essere un positivo provocatorio perché ama anche vedere queste reazioni a me a volte su Discord mi dice oddio mi fa troppo rite quando diventi tutto rosso che riesco a farti innervosire e basta andiamo avanti andiamo avanti cioè focalizziamoci sul caso non fa niente stiamo solo in questo caso alimentando la sua parte Diego basta così va bene così allora qui si sta parlando della vi ricordate la chiamata che arrivò chi l'ha visto dove disse dove si parlò di Rinettino di Petis che stava sotto a Santa Pollinare quindi insomma la storia è molto particolare e sentiamo un po' andiamo avanti circolava la droga nel vostro ambiente no e appunto consideriamo che la banda della Magliana controllava e spacciava droga nella capitale Raffaella notariale le chiede se sa qualcosa di Manuela Orlandi allora la Minardi inizialmente non so se vi ricordate parla adesso ve lo dico proprio in parole molto povere e strette dice questa roba così che la la Orlandia è stata rapita da alcuni degli scagnozzi di Rinettino di Petis portate in una casa e addirittura le venne a fare visita una carica importante della chiesa con cui ebbe dei rapporti sessuali e poi però andando avanti al tempo quel finale che dopo tutti questi giri di sesso prostituzione minorile eccetera eccetera la ragazza fu messa in una betoniera ok questo è quanto poi però le sue dichiarazioni vengono considerate non attendibili perché gliene dicono tutti voi perché è una drogata perché è su perché è giù comunque questa erano le dichiarazioni un pochino della Minardi lei c'entra con il sequestro Emanuela Orlandi signora io spero che lei stia scherzando nel chiedermi o forse lo sta dicendo in maniera ironica questa domanda cioè ma assolutissimamente no cioè io questa ragazza con questa fascia in testa la vedo dovunque perché ci sono foto ovunque ma ma scherza cioè questa è una cosa che mi dispiace che lei mi abbia fatto questa domanda perché cioè non è che mi sto discolpando io sto semplicemente dicendo cioè da un fatto che ho fatto dice ti vuoi discolpare sto semplicemente dicendo e mi batterò fino all'ultimo con le unghie e coidenti come si dice ma scherza ma io ho una figlia di 25 anni insomma cioè ma assolutamente no ma insomma una risposta un po' contorno assolutissimamente anzi le dico la verità se sapessi dove sta che fine ha fatto ma sarei io la prima a tirarlo fuori assolutamente no sarei io la prima a tirarla fuori questo ci dice nella prima uscita pubblica nella prima uscita che la fa proprio con noi di chi l'ha visto poi però la Minardi ci ripensa e dice alla polizia De Pedis me l'ha consegnata io arrivai lì al Bargianicolo con una macchina poi Renato il signor De Pedis con cui in quel periodo avevo una relazione mi disse di prendere un'altra macchina che era una BMW e di accompagnare cioè arrivò questa ragazza una ragazzina arriva questa ragazza e lui mi disse se l'accompagnavo fino a sotto dove sta il benzinaio del Vaticano che ci sarebbe stata una macchina targata città del Vaticano che stava aspettando questa ragazza io la accompagnai così feci durante il tragetto non so quanto tempo era passato dal sequestro di Emanuela Orlandi io la identificai come Emanuela Orlandi insomma dal assolutissimamente no le pare io c'ho una figlia insomma siamo passati a questo poi andando avanti la Minardi ritratterà un pochino anche le sue dichiarazioni però qui in realtà non possiamo sapere se le sue contraddizioni il suo cambiare idea siano derivanti dalla paura di minacce eccetera eccetera io vi ricordate quando abbiamo fatto il primo speciale la storia della Minardi sembra molto in realtà molto plausibile e potrebbe spiegare anche quell'audio che il fratello di Emanuela Orlandi ha dichiarato probabilmente reale della sorella che viene che subisce un abuso sessuale ecco perché riconosce la voce avete voluto sentire negli anni cioè la certezza che stava in questa macchina portata chissà dove fra poco lo vedremo però allora Natalina tra l'altro tuo padre c'è morto nel senso che aveva ritagli di giornale in mano terapia intensiva ci chiedeva perché ci devono essere delle trasmissioni dovevano uscire delle novità voleva leggere e vedere i giornali e non ha saputo quello che è successo dopo allora la Minardi naturalmente noi appunto avendo il contatto con lei Raffaella Notariale le chiede ma De Pedis può aver fatto qualche cosa cioè per cercare di capire se comunque la Minardi sapesse qualcosa su De Pedis e Emanuele Orlandi vediamo che cosa ci risponde Signora Minardi che lei sappia Enrico De Pedis c'entra con il rapimento di Emanuele Orlandi hai mai sentito qualcosa su questo fatto? Senta premesso il fatto che Enrico Renato era una persona che quando stava in casa con con una donna o con la sua donna insomma io in quel momento mi sentivo di essere la sua donna perché era lui che mi faceva sentire si parlava di tutto si scherzava si rideva ma assolutamente di niente cioè io non è che non so di nulla di Emanuele Orlandi io non so nulla della sua vita cioè di quello che lui faceva non faceva non so assolutamente niente che molte delle cose che sono state attribuite alla banda della Magliana in parte sono vere in parte inventate poi c'è qualcosa che non si sa insomma voglio dire c'è un po' di confusione intorno alla banda della Magliana ecco oggi le ho detto del sequestro di Emanuele Orlandi io Renato non lo faccio un uomo così direi cattivo userei un termine semplice ma diretto che può colpire una bambina lei mi può rispondere allora mi mi sbaglio io è la prima volta perché di solito le interviste della Minardi non so se qualcuno le ha già sentite avete mai sentito altre interviste della Minardi dove parla perché sembra quasi impastata sembra quasi che sia sotto effetto di una droga non so ciao Chiaretta non so se mi spiego avete mai sentito altre dopo ce lo vogliamo vedere perché il modo di parlare è molto è molto impastato parla uguale chi non me la ricorda va bene va bene va bene l'inicitra l'inicitra evidentemente l'aveva fatta grossa più grossa dei nostri pregiudizi no pregiudizi principi allora la morte del piccolo Domenico di citra apre un'altra tristissima pagina poi ve ne parleremo però continuiamo Sabrina Minardi ci ripensa e dice che lei ci parla con Emanuele Orlandi che è dentro la BMW e ci sono anche tanti particolari la ragazza era seduta dietro in macchina io come potevo la guardavo avevo visto che le avevano tagliati i capelli in maniera oscena aveva un taglio tutto paro insomma si vedeva che era stata fatta una cosa a casareccia alla ragazza le ho detto ma come ti chiami lei mi ha risposto Emanuela senza cognome mi disse Emanuela ripeto non era lucida cosciente ma non lucida parlava male parlava male trascinava le parole vabbè comunque io quando l'accompagnai c'era un signore con tutte le sembianze di essere un sacerdote c'aveva il vestito lungo il cappello con le falde larghe scese dalla Mercedes nera e io feci scendere la ragazza buonasera lei aspettava me? sì sì credo proprio di sì guardò la ragazza prese la ragazza e salì in macchina sua poi dopo io io dopo che avevo realizzato che era quando tornai su da Renato gli dissi Arena ma quella non era lui ha detto tu se l'hai riconosciuta è meglio che non la riconosci fatti gli affari tuoi e gli dissi in mezzo a che impicci mai missa e lui mi disse nessun impiccio insomma sapete io poi andando avanti sta cazzarola di storia ti porta su tantissime onde su tantissime fronde però ogni volta che la sento sta roba mi sembra un sacco plausibile proprio le dinamiche il cambio aspetto di lei De Pedis che magari non si vuole fidare di un di qualcuno della Magliana si fida di una delle sue amanti più strette insomma anche il tipo di parole che mi ha messo in mezzo se impicci nessun impiccio se l'hai riconosciuta è meglio che non la riconosci fatti gli affari tuoi cioè ciao ansia è una cosa proprio che mi mette proprio in sempre molto in focus su sta roba non so se a voi sta roba qui vi dà sti interviste che si sentono o ste parole sempre della Minardi vi diano più o meno la stessa impressione a me è una cosa che mi ha sempre fatto questa della Minardi mi ha sempre dato questa idea della struttura allora è tutto il contrario di tutto e questa famiglia ha dovuto sentire anche questo Natalina tu hai dovuto ciao King James no secondo me invece prima o poi qualcosa uscirà perché il caso ormai ha raggiunto una potenza mediatica anche pure con la docuserie Netflix ha raggiunto anche altri paesi è una cosa che mobilita quando c'è una mobilitazione di questo genere può essere un'arma a doppio taglio o come è successo quello dei numerosi depistaggi perché parlarne tanto può essere importante ma può essere pure una cosa che confonde la gente dall'altra parte invece tenere la fiamma viva prima o poi farà accadere qualcosa la paura la paura grande è questa che probabilmente se dovesse uscire qualcosa uscirà quando tutti saranno morti noi abbiamo fatto la puntata sulla riapertura del caso Orlandi e per esempio è molto molto strano potrebbe essere una casualità come no che tutto si sia rimesso in modo dopo la morte di Ratzinger era come se Ratzinger si fosse messo lì fosse ancora una pedina importante per questa roba e forse e forse chi lo sa che magari lui non abbia fatto un passo indietro come papa proprio perché c'era una situazione di questo genere dietro o per una situazione similare o qualcosa del genere non lo possiamo sapere insomma però non è detto che la verità non venga fuori io credo che indipendentemente da tutto sapere la verità anche se non dovesse portare a far pagare quelle persone per quello che hanno fatto alla famiglia Orlandi quella sorella non gliela ridarà più nessuno o se qualora Emanuela fosse viva tutti i 40 anni senza la Orlandi non gliela darà nessuno a sta famiglia però insomma è per dare dignità pure a una persona a una ragazzina a vita per dare un messaggio un qualcosa è importante che se ne venga fuori un pochino come la storia di Mario Biondo non so se vi ricordate Mario Biondo quel cameraman che ha lavorato pure per l'isolato dei famosi che era fidanzato con quell'attrice famosa spagnola ritrovato impiccato nella sua casa e viene viene detto che lui vabbè era un drogato oppure che aveva volato provare posizioni sessuali strane quando in realtà non si trattò di suicidio ma di altro la madre io e me mi rimase molto impresso quello che disse disse io voglio la verità e mio figlio non me lo dà più nessuno e ho capito che qui non pagherà nessuno ma io voglio ridare la dignità a mio figlio mio figlio non era un drogato mio figlio non ha fatto non si è suicidato mio figlio è stato ucciso e questo bisognerebbe capire la Mizz ho dovuto sentire che avevano tagliato i capelli a tua sorella in modo osceno è importante questa cosa sono particolari però che immagino voi familiari perché noi sono particolari importanti ci abbiamo messo tanto per prendere quelle immagini da tandem le prese la nostra Vittoria Polato di tua sorella che partecipano ce l'hai fatta senza vedere lasciarelli con gli occhi lucidi guardate insomma io lo so vabbè a volte chi l'ha visto come tante trasmissioni ha delle difficoltà però credo sia imparagonabile a tutta l'altra roba di merda beh Ali stanno parlando delle emotività penso per la famiglia particolari importanti qui penso stiano parlando più che altro del fatto emotivo non di a parte che sono importanti pure delle piccolezze su come è stata spostata su come è cambiata su come è stata spostata quindi però penso che sia più per narrativa e per questione emotiva che per caso vero e proprio un'immagine piatta in questa trasmissione televisiva se possiamo mandare in onda le immagini che praticamente si vede si vede Emanuele Orlandi con l'audito e un applauso eccola eccola qua la vedete questa ragazza sulla destra vedete vicino alla presentatrice col vestito rosa eccola qua è lei con questi capelli neri una bellissima ragazza che poi Natalina è vero noi siamo abituati a vedere la piatta nel senso con le fotografie con la striscetta invece qui la vediamo e la vediamo anche in piedi con questi suoi bellissimi capelli neri sembra un secolo fa allora è tutto crudele no? anche sentire che c'è una ragazza allora come vedete provate a pensare pure al periodo storico e al concetto anche di bellezza del periodo Emanuele nonostante fosse giovanissima era molto donna e femminile e quindi perché dico questa cosa? non perché tutto di un botto sono diventato un maiale ma perché insomma queste sono supposizioni dettate dal nulla è un pur per lei però insomma può benissimo essere che insomma ci sia qualcuno che si sia nettamente fissato con lei o che possa essere arrivato cioè è una cosa che potrebbe dire tutto o potrebbe dire nulla però insomma lei esteticamente era molto femminile e quindi magari qualcuno è entrato in fissa e è successo questo purtroppo veramente sarebbe bello sapere finalmente qual è la verità pure per chiudere questa storia e per smettere per avere pure un po' più di fiducia no? per ricominciare a prendere un po' di fiducia pure si per levasse dei dubbi sulla chiesa per capire se ci stanno solo delle persone marce per avere più fiducia nelle istituzioni per capire un sacco di roba esatto esatto sono d'accordo con te Francesca ho pensato la stessa cosa quando appena si è alzata dei movimenti molto aggraziati molto femminili e delicati però da donna esatto esatto un dettaglio secondo me che è importante cazza che sta in stato confusionale in una BMW che gli tagliano i copelli in maniera oscena però forse la cosa più crudele di tutti è l'audio che hanno fatto sentire di una giovane donna che si lamenta e l'hanno fatto sentire ai tuoi familiari a me perfino anche a te no? cioè la prima l'hai sentito te questa cassetta? credo di più per sapere se era la voce di tua sorella? me l'hanno fatta sentire e poi c'era Dottor Sica all'epoca e poi mi ha detto no ma non ti preoccupare già abbiamo interpellato i suoi mestri di musica e hanno detto che non è la tonalità di Emanuela non è non è la sua voce allora però è stato sconvolgente lo stesso a prescindere se era Emanuela o no perché chi ha mandato questa cassetta ha comunque fatto sentire questi lamenti ai familiari che aspettavano di sapere che cosa fosse successo e andiamo guardi appena appena è finita la registrazione cioè l'audio tipo come quando come quando arriva arriva un terremoto e usciamo vivi da sotto le macerie ci guardavamo in faccia come dei ci guardavamo in faccia tipo persone meravigliose ma che è successo perché era talmente allora guardate la sorella adesso ha detto così io cerco di adesso appena finiamo un pochino questo spezzone di chi l'ha visto cerco di ritrovarvi l'intervista che ho visto io il fratello invece dice che lui la riconosce non c'è la sicurezza ma secondo lui quella era Emanuela talmente forte forte tra virgolette come 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 tortura che siamo rimasti tipo oh mio Dio che hanno fatto sta ragazza cioè rimasti un po' scioccati ecco tipo così siamo rimasti scioccati dice Antonio Asciore ex agente della Digos una delle prime allora scusate se ne rinterrompo allora se dovessero far sentire l'audio per chi è un po' più sensibile vi consiglio poi di di mutare la live perché noi abbiamo sentito io non l'avevo mai sentito l'abbiamo sentito una volta in live era la prima volta e mamma mi ricordo ci ha spaccato un po' tutti calcolate mi pare che ho proprio dovuto chiudere la live e ci abbiamo avuto un po' insomma è stato troppo non credo no non è non è sicuro Leia non è sicuro che venga da un porno quella è stata una delle cose che è stata non c'è la certezza che venga da un film pornografico in realtà l'abbiamo spiegato pure prima comunque nell'audio insomma si sente Emanuela che Emanuela o chi chi che sia che insomma si lamenta e dice no per favore per favore no vi prego per favore ma come fate a dire che è certo che la sorella stessa adesso ha detto non sappiamo se è lei o non o lei per favore non è certo che non sia che sia un estratto di un film pornografico anche perché in un'altra intervista che abbiamo visto c'è chi dice che l'hanno detto ma è stato smentito e è stato detto da una delle persone che ha ascoltato per la prima volta l'audio che quando hanno mandato la pizza con l'audio perché una volta c'erano le pizze con la registrazione l'audio è stato modificato è stato modificato quindi c'è una discrepanza tra gli audio che ci sono ma è un caos enorme quindi il fatto che magari quell'audio sia stato cambiato insomma ci fa capire che potrebbe essere veramente Emanuela persone ad ascoltare il famoso nastro di via della dataria l'audio cassetta fatta ritrovare 25 giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi dai suoi presunti rapitori se parte l'audio mutate se non ce la fate mutate un attimino tutto agghiacciante è la voce di Emanuela o sono spezzoni di un film pornografico è realtà è una sevizia crudelissima oppure si tratta di un ennesimo depistaggio all'epoca stavo in polizia stavo alla di potete tornare potete tornare chi ha mutato come back venite di Roma via San Vitale Antonio Asciore ha 21 anni la divisa addosso ed è di turno sta lì e aspetta pronto a intervenire nel caso in cui sia necessario è domenica 17 luglio una giornata caldissima che sta quasi per finire appena poche ore prima affacciato alla finestra della sua residenza estiva di Castel Gandolfo Papa Giovanni Paolo II pronuncia un ennesimo appello per la liberazione di Emanuela Orlandi il terzo dopo quello del 3 luglio desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi la quale non è di cattivo gusto è una scelta la puntata in questo caso è preparata la sorella sapeva evidentemente è stata una scelta quella del farlo sentire non è una cosa improvvisata come quella volta del caso dei misteri di Sarascazzi questa è una cosa preparata la sorella sapeva benissimo che ci sarebbe stato l'audio quindi è una scelta e probabilmente la scelta è stata quella di far sentire in tutta la sua potenza in tutta la sua parte terribile quell'audio affinché magari potesse smuovere la coscienza di qualcuno per far capire quanto è terribile tutto questo che cade ragionatori su questo è una scelta è una scelta ma non hanno inquadrato per colpire è un'inquadratura che fanno sempre Ali Ali è una cosa che fanno sempre non hanno fatto per una questione qualsiasi adesso l'abbiamo visto sempre come quando parlava quello hanno inquadrato la sorella poi hanno inquadrato Antonio Mancini è proprio una cosa standardizzata del programma non era per una questione emotiva è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni tutto comincia con una telefonata che arriva alla sede dell'agenzia giornalistica ANSA di Roma che si trova in via della dataria a poche decine di metri dalla scalinata che porta al Quirinale il redattore che risponde ascoltato dagli inquirenti quella notte stessa dichiara verso le ore 22 e 35 arrivava una telefonata sul filo diretto della cronaca ed una voce di uomo giovane senza inflessioni dialettali ed imperfetto italiano mi riferiva che una cassetta avvolta in un manifesto era stata da lui lasciata sulla scala di via della dataria sul lato sinistro il nastro Lorenzo secondo te c'entra il papa Max? ti rispondo così spero proprio di no lo spero con tutto il cuore veramente con tutto il cuore però chiaramente un dubbio ce l'ho è chiaro che ce l'ho però io spero di no per me è innocente fino a prova contraria nel senso che finché non ci abbiamo la certezza che il papa sia colpevole per me rimane innocente però la paura e il dubbio è certo che ci sono questi murali strappati da un muro all'occorrenza e completo di custodia e niente il sott'ufficiale dalla finestra io stavo giù nel cortile mi chiamò e disse sali un po' sopra vado su e mi dice pigliate una macchina e vai a Lanza non mi sono mai vestito da papa non mi sono mai vestito da papa è una cosa sicuramente altre sfere del Vaticano sicuramente sì sono d'accordo con te Marco però il papa pare che non mi ha manco detto di cosa si trattava perché non mi ricordo questo comunque andai lì è uscito un signore mi ha dato sto pacchettino ho firmato ovviamente e l'ho portato in ufficio ed era un reperto che riguardava Emanuele Orlandi che cosa fa dopo? vado in ufficio scendo dalla macchina vado su e gli dico al sott'ufficiale ho detto ecco qua e allora chiamarono il funzionario e disse sì sì ascoltadela e noi l'abbiamo ascoltata Antonio in quel momento non sa di trovarsi di fronte a una registrazione che dopo 40 anni resta uno dei più grandi interrogativi del caso Orlandi e all'inizio quello che ascolta nemmeno lo capisce bene io perché? io perché? inizialmente non si capiva bene che cosa fosse sembravano delle voci poco comprensibili poi si è cominciato a sentire dei lamenti di una voce femminile non mi sento male non mi sento male una voce di donna che geme si lamenta e grida e dice basta ma non c'è solo questo Antonio Asciore ascolta distintamente anche le voci di alcuni uomini e ce le descrive mi ricordo però che le voci maschili c'erano c'erano più di una voce due eccolo qui ecco la parte della manomissione ecco perché potrebbe essere un audio reale ragazzi e ragazze proprio perché c'è la manomissione della questione tre voci qualcuna con inflessioni di realtà altre che non si riusciva a capire qualcuno diceva solo delle monosillabe tipo stai zitto e qualcuno invece dava degli strilli proprio per intimorirla ah degli strilli voce strillava tipo le faccio un esempio no la ragazza sta si sta lamentando di che sta male perché gli stanno facendo le stanno facendo qualcosa però non si capiva che cosa che lei diceva basta diceva non ce la faccio più non ce la faccio più e allora a un certo punto questa voce maschile dava tipo un urlo di di rimprovero tipo smettila tipo stai zitta tipo se non la smetti ti fa cioè tipo la impauriva e poi e poi in molti passaggi la ragazza mentre si lamentava no 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 e discusa se hanno la famiglia stessa c'ha il dubbio all'epoca era così per una persona comune ma non mettere un audio con addirittura delle serie ma è molto difficile complicato era ah lì complicato c'era un lamento tipo come come una tortura che aumenta di intensità tipo per esempio io le do un pisicotto no poi io stringo di più stringo di più e allora lei fa ah ah cioè aumenta l'intensità del dolore è tipo così sta persona sta ragazza che le stanno facendo oh mio dio che le stanno facendo ci guardavamo in faccia quindi non è solo una sua impressione ma anche le persone che hanno ascoltato questa cosa erano concordi nel pensare che erano diciamo dei lamenti di una persona che stava male giusto vi faccio un esempio noi stiamo ascoltando la cassetta allora quando sente la frase o il lamento che fa diciamo un po' impressione anziché guardare sull'apparecchio ci guardavamo negli occhi l'uno con l'altro e facevamo dei gesti di meraviglia dice mamma mia che sta succedendo tipo così siamo rimasti tutti tutti male male strani cioè tenevamo una un modo quella sera stavamo male insomma non so spiegare come ma stavamo male inizialmente ciao M a me l'effetto che mi fa è questo forse allora credo che l'audio ci faccia molto più effetto perché c'è una parte probabilistica che sia una ragazzina che viene violentata perché normalmente magari non l'avremmo vista così insomma non ci avrebbe fatto questo effetto capito ma a monte perché registrare i discorsi perché potrebbe queste supposizioni non lo so potrebbe essere che magari volevano registrare per poi ricattare queste persone che stavano violentando Emanuela ti faccio un esempio immagina che io Renatino De Petis ti faccio questo favore te la porto ti metto dentro una stanza registro e dopo ricatto le persone che magari sono della chiesa per far sta roba per esempio ma le motivazioni potrebbero essere più disparate e diverse credo che siccome questa era una cosa molto comune della banda della Magliana questa dei ricatti hanno fatto anche con molti personaggi che frequentavano i bordelli della Magliana che si rifornivano di droga dalla Magliana gli facevano fotografie o li registravano quindi insomma è una cosa che come vedete rientra molto in linea con la storia della Minardi io più va avanti e più ogni volta nonostante smentire esce roba però poi alla fine quando gli audio ci sembravano plausibili lo stanno a smontare ogni volta che si torna indietro a me la storia della Minardi è quella che mi rimbomba però è una cosa mia personale però è quella che mi rimbomba di più nella testa ecco abbiamo pensato che la stessero torturando però tra di noi facevamo ma che può essere cioè che lei sai dice il coltello la pinza le pinze che stanno facendo si capiva si capiva solo che lei diceva il sangue e no Franci sono state manumesse si sentivano voci maschili in realtà è proprio quello che sta dicendo l'agente l'ex agente della Digos l'audio che sentiamo noi è stato manomesso si sentivano voci maschili è questa la cosa e fotografare poteva essere problematico perché tu magari la persona non è come adesso che è facile fotografare una volta dovete immaginare che tipo di strumenti che avevano li registri perché quella te lo tieni magari come strumento per eventualmente minacciare e ricattare quelle persone al momento giusto basta certo manda un moderatore che ora me lo mandano su whatsapp allora se no però questa cassetta con le voci di maschili non c'è più poi adesso ne facciamo sentire all'altra parte con le voci maschili però se un uomo che si occupa di questi casi si sente male cioè lui che ringraziamo per questa intervista dice noi ci siamo sentiti male ci guardavamo ma voi potete immaginare che cos'è per un familiare avere sentire questa cassetta no perché veramente è uno stilicidio è una cosa tra l'altro appunto che dura da 40 anni cioè un familiare può impazzire con tutto questo che poi è tutto il contrario di tutto perché ci sono i lamenti da una parte dall'altra parte della cassetta c'è una rivendicazione per la liberazione di Ali Akh Cha assassino che ha fatto l'attentato al Papa una storia che puzza di depistaggio anche questa però ci sono anche delle voci di uomini certo ma Ali se è successo qualcosa se ancora non arriviamo grazie Mick se ancora Mick che manda il nick Mick che manda il link con il suo nick bene scusa certo che è plausibile sta cosa ci deve essere qualcosa di molto grosso e può esserci una grande istituzione della chiesa può esserci un grande politico può esserci qualcosa capisci c'è una cosa enorme dietro grandissima perché è troppo strano troppo strano e ricordiamoci che i servizi segreti per un periodo hanno collaborato anche con la Magliana quello che si è pensato è possibile che siano delle persone che stavano presente a una registrazione di un film di una cassetta perché questa cassetta poi alla fine è stato detto probabilmente fa parte di un film porno però è una cassetta che comunque anche questa è andata a finire nelle mani degli inquirenti e dei familiari di Emanuele Orlandi Francesco Paolo del Re Pietro nel 1983 quando lei sente parlare per la prima volta della cassetta di Via della Dataria? bene sento parlare la sera del 17 luglio 83 andarono mio padre mio zio e li accompagnarono mio cugino in un erondato ascoltarono questa cassetta e quando mio padre tornò a casa io ricordo questa frase che dice sia mio padre che mio zio oddio ma si sentiva si sentiva malissimo e c'erano tutte quelle voci di uomini ma che dicevano parlava con mio zio di questo ma che dicevano quelle voci maschili dice però certo quella frase quando dice mi lasci dormire a me sembra proprio Emanuela quella lo stesso sentite addirittura la famiglia diceva mio zio quella è la frase che mi è rimasta in mente è vero lo zio di Emanuela Mario Meneguzzi lo dichiara subito sono le due di notte ormai è il 18 luglio quando Mario Meneguzzi viene convocato dal commissario cavaliere ecco quello che mette a verbale subito dopo aver ascoltato la cassetta per quanto riguarda la voce femminile sebbene in condizioni non normali posso dire con una buona dose di sicurezza che si tratta della mia nipote Emanuela Orlandi infatti nella frase basta mi lasci dormire credo di riconoscerla almeno al 90% e questa è la frase nella quale i familiari riconoscono la voce e il modo di parlare di Emanuela ci sono un paio di frasi di senso compiuto una di queste mi lasci dormire che io ti assicuro appena l'ho sentita io non ho avuto nessun dubbio per me quella è Emanuela ecco quello che vi dicevo quell'intervista che vi dicevo che avevo sentito sentite il dubbio rimane e questo tipo di video questo tipo di cosa è molto lineare con la storia per esempio della Minardi molto collegata quella frase è Emanuela mio padre aveva questo ricordo dice oddio quella voce certo mi sembrava Emanuela ed era passato meno di un mese dalla scomparsa di Emanuela quindi il ricordo voglio dire era divido impresso proprio nella memoria è la mattina del 18 luglio e intorno alle 10 negli uffici della squadra mobile è già pronta una trascrizione integrale del messaggio inciso sul nastro magnetico dagli ignoti individui che avrebbero sequestrato la minore Emanuela Orlandi nel frattempo il nastro passa nelle mani del SISDE il servizio segreto civile che scrive un appunto riservato parlando di una registrazione nella quale si avvertono lamenti ripetuti di una giovane donna verosimilmente sottoposta a sevizie dall'ascolto della registrazione si evince che è stata fatta mentre la ragazza veniva sottoposta a stimolazioni dolorose di intensità variabile e progressivamente crescente scariche elettriche L'agente del SISDE incaricato di analizzare la cassetta a proposito dei lamenti femminili scrive Ritengo si tratti di una registrazione autentica e non di spezzoni montati artatamente ho avuto comunque l'impressione che tale registrazione sia stata ottenuta con l'ausilio di suoni e rumori pre-registrati su altri nastri che siano stati risentiti nel momento in cui veniva registrata la violenza della Orlandi i rumori di fondo insomma a un primo ascolto vengono ritenuti una specie di colonna sonora che viene trasmessa nel luogo in cui avviene la violenza molto verosimilmente la voce si identifica con quella già ascoltata sul nastro precedente lei colti bene questo registrazione si me la faccio sentire bene però il riferimento è alla voce fatta ascoltare dall'americano allo zio ora convinta nazionale vittorio manore secondi dovrei fare il terzo diciamo scientifiche ragazzi sembra lei avete sentito l'intonazione qui con quella mi lasci dormire porco dinci sembra lei voi che pensate pensate sia lei quella della registrazione così ad occhio a me è sembrata proprio lei adesso è vero a giro c'ho i brividi c'ho tutti c'ho la pelle d'oca la voce fatta ascoltare allo zio al telefono e la voce della cassetta di via della dataria potrebbero essere della stessa persona nella relazione del sisde leggiamo sì scariche elettriche sì sono d'accordo le due voci hanno in comune un tono un po' nasale specie per quanto riguarda la lettera A ciao bruciatore è la stessa persona quindi è questa persona è la quindicenne cittadina vaticana nella registrazione delle violenze non c'è solo la voce femminile ci sono anche le voci maschili questa è la prima questa è la seconda questa è la terza una quarta e una quinta l'ha sentita qua dice la vogliamo portare là questa voce invece le sentiamo sull'altro lato del nastro ascoltiamola insieme le voci maschili in nostro possesso sono solo queste pochi frammenti appena percettibili Antonio Asciore l'agente della Digos che prende la cassetta da Lanza se ne ricorda però molte di più qualcosa potrebbe essere un lato perduto molti pezzi oltre le voci maschili che non c'erano più molti sicuramente sono stati anche tagli sui lamenti perché i lamenti che si sentono adesso si sentono che sono lamenti però non sono gravi gravi diciamo da sentire come quelli che si sono sentiti la prima volta cioè lei che ha riascoltato recentemente questo audio ritiene di aver ascoltato una parte di quello che sentiva esatto all'epoca c'era di più secondo lei sì di più di più pure come minuti perché è molto più corto un audio più lungo e anche più sconvolgente in qualche modo assolutamente molto sconvolgente quello di adesso sì si sentono i lamenti però non sconvolge in procura in procura ci sono soltanto CD io ci sono andato a cercare questa audiocassetta non c'è traccia non c'è nessuna audiocassetta in procura poi ci stanno tantissimi CD di tantissimi riversamenti e quest'audio di due minuti sta su un CD come quell'altra di otto minuti sta su un CD ci stanno varie persone ce ne sta una pure di tre minuti circa nessuna di queste è l'audiocassetta originale noi che cazzo devine ha fatto intracciamo un'audiocassetta all'interno del fascicolo del terzo processo per l'attentato al Papa ma come vedete anche questa è una copia la prima sensazione che ho avuto è che qualcuno ha manipolato quell'audiocassetta e a me può darsi che ci fossero delle voci maschili che erano riconoscibili il primo pensiero è stato quello quello di cui stiamo parlando non è l'unico nastro sì perché prima della cassetta di via della dataria sarebbe stato lasciato un altro nastro il cui contenuto non è mai stato divulgato sarebbe stato fatto sparire da qualcuno la cassetta che è stata prelevata a Lanza il 17 di luglio non è stata l'unica cassetta perché qualche giorno prima è stata mandata una cassetta al colonnato non la sapevo sta roba ragazzi sapete non la sapevo manco io che su sto caso insomma sono bello non sapevo sta cosa qui di San Pietro è stata data sempre Lanza ha comunicato che c'era una cassetta forse quelli che l'hanno mandata credendo che non fosse mai arrivata a destinazione ne hanno mandato una seconda facciamo un passo indietro è il 14 luglio tre giorni prima del ritrovamento sulla scalinata del Quirinale i presunti rapitori dicono di aver lasciato un pacchetto sotto il colonnato di San Pietro ma questo nastro non è stato mai diffuso perché? lo spiega l'americano al giornalista dell'ANSA quando il 17 luglio telefona per segnalare l'audiocassetta di Via della Dataria il nastro che lasciamo in piazza San Pietro è stato preso da due funzionari del Vaticano e quindi il contenuto non è stato reso noto la cassetta lasciata sotto il colonnato quindi sembra che una delle cassette ce l'abbia il Vaticano è stata davvero presa da funzionari vaticani e negli archivi della città del Vaticano potrebbe essere conservata ancora oggi quella là non è stata mai resta pubblica cioè il Vaticano non ha mai detto sì abbiamo anche una cassetta è un altro mistero questo perché insomma una cassetta tagliata cioè tra l'altro le cassette erano quelle di un tempo adesso ci sta il nastro registrato in cd e una cassetta perché non tenere l'originale perché non tenere l'originale chi l'ha vista la cassetta dobbiamo fare e poi bisogna capire anche se questa cassetta è tra le cose impolverate che Didi promotore Vaticano ha detto abbiamo trovato quella in Italia io dico quella in Italia noi siamo andati addirittura in Maggiuliani che era andata a cercare perché abbiamo pensato forse Pietro ha cercato ovunque non siamo riusciti a vedere allora Mancini prima ci diceva una cosa riguardo Marcello Neroni che tra l'altro se vuole contattarci e dire e dire e parlarci ma anche il figlio insomma senza che ci tiri il microfono in testa ci diceva che De Pedis non voleva fargli sapere quanti soldi aveva chiesto per l'estorsione dovremmo essere in grado di farvi vedere che effettivamente quello che dice Mancini è esatto eccolo qua è l'operazione Colosseo e De Pedis dice a questo signore a cui hanno estorto insomma evidentemente i soldi di non riferire a Neroni De Pedis lo chiamava Cicero la somma del pizzo pattuita e dice nell'occasione mi invitò a non dire nessuno e nemmeno che a Neroni che difendò un Cicero per quale somma la sodale di che quindi vuol dire che non si fidava non si parlava era l'amorbidente insomma quello che dicevi ma non è detto però non l'abbiamo spiegata prima sta roba probabilmente ha ragione probabilmente ma non è detto faccio un esempio io adesso organizzo una cosa criminale c'ho tra i miei ammorbidenti come le chiamano lui Felpato Incolpato Serena Gabriella e Mitz Gabriella e Mitz non mi fido di Felpato Incolpato non mi fido mi succede un'emergenza Serena sta a fare una cosa Gabriella un'altra Mitz un'altra non so che cosa fare sono in difficoltà ho avuto un imprevisto qualcosa mando Felpato Incolpato a fare una cosa e qualcosa le devo dire per farglielo fare capito quindi non è detto potrebbe essere anche la situazione che lo ha portato a doversi fidare per forza improbabile ma possibile ammorbidiva chi non voleva perché era grosso Neroni non sapeva menare ma io ti dico una cosa quanti anni sono passati dal fatto dell'operazione Colosseo quello che mi è rimasto impresso sono questi due episodi lui che parla più con le guardie che con i compagni è che Renatino così precisino dice a questo non fa sapere niente perché? Allora noi abbiamo invitato Antonio Mancini perché insomma lì nella band lo dico perché c'è un parente dice a me ha ucciso un mio parente perché l'avete invitato lo dico perché noi ovviamente stiamo cercando di fare un percorso che è anche molto complicato non so il parente che tu hai ucciso chi è che ci ha chiamato mi hanno avvertito dalla redazione però per noi tu comunque sei una memoria storica di quello che eravate e che tu giustamente hai detto poi ci fanno i film che sembravamo che eravamo chissà che cosa eravamo dei balordi che drogati che ci siamo pure mangiati i soldi della droga e che abbiamo fatto morire i ragazzi diceva vedete prima avete detto la persona ha detto lui sta esaltando non si pente state bene lui ha detto ci fanno passare come degli eroi ma eravamo dei debosciati e eravamo degli scappati da casa insomma che si sono magnai tutti i soldi quindi vedete non c'è non stai idolatrando come qualcuno ha ipotizzato prima vedete perché gli consegnavamo la droga quindi insomma questo è importante ma poi una cosa perché la gente poi pensa che le cose che faccio io lo faccio per i soldi a parte te lo sai io quando chiedo qualcosa bonifico all'associazione Anfas Disabilità io non so io perché tu lavori con i disabilità hai capito come queste sono cose importanti perché dici questo perché mo ha sentito bagliardo 48 mila euro vabbè mo non allargiamo tanto noi di chi l'ha visto non paghiamo nessuno qua ci tocca pagare il microfono rosso però pensano che anche noi per tanti anni per tanti anni ci hanno detto che certo portavamo il discorso di Emanuela perché prendevamo un sacco di soldi questo mi pare veramente andavamo nelle trasmissioni a prendere i soldi io voglio che si dica questa cosa perché dopo ho io capito noi Antonio Mancini gli abbiamo offerto la mensa oggi confesso che mi ha mandato una fotografia se sei venuto di pagare il caffè perché mi usciera manca il caffè perché l'abbiamo mandato a mensa questo è stato il pranzo suo però io vorrei dare l'ultima parola a Natalina perché è stata dura in questi giorni no Natalina diciamo noi poi abbiamo avevamo levato mano ma siamo comunque qui perché siamo trasparenti però è stata dura io in generale non mi lascio mai andare ne accormenti guarda che noi abbiamo giocato io un vetro potete attaccare quella per me è stata un'occasione no no ma è stata dura no? sì è stata dura perché mi dispiaceva un sacco per Pietro prima cosa perché lui veramente ci sta perdendo quasi la salute era talmente contento dopo che era uscito dal colloquio con i promotori di giustizia in Vaticano perché finalmente aveva trovato questa poi purtroppo ha commesso questo piccolo scivolone dove ci si sono tutti attaccati come se fosse il peggio delinquente sulla piazza di Roma e avesse lui commesso la cosa non è giusto non è giusto perché come diciamo quando stiamo nell'associazione il familiare può dire qualsiasi cosa il familiare può dire qualsiasi cosa e deve essere sempre giustificato sono gli altri che devono trovare la soluzione alle cose allora Natarina io ti ringrazio perché insomma lo so un periodo duro allora io nel frattempo lo faccio vedere qualcosa allora che cosa succede vi spiego di che cosa stava parlando la sorella praticamente Pietro Orlandi fa questo incontro e praticamente parla di quello che è successo parla di Giovanni Paolo II quindi parla del Papa e il Vaticano gli manda una lettera dicendo che si deve vergognare perché ha buttato fango su Papa sul Papa però vi faccio prima sentire una delle frasi che ha fatto del fratello che ha fatto Scalpori vi faccio sentire un po' di frasi che ha detto ultimamente e tutto Papa Francesco guardiamo le parole di Papa Francesco ha detto certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate e questo perché lei aveva detto qui in trasmissione Papa Voitila ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi aggiungendo che non andava certo a benedire le case cosa ha da dire Pietro Orlandi beh io non credo che Papa Francesco si rivolgesse a me in quell'appello cioè un Papa che si rivolge a una persona piccola come me lui evidentemente faceva riferimento alle parole espresse da quel personaggio Marcello Neroni di quell'audio famoso che è uscito lì ci sono veramente le offese le accuse a Carlo Voitila io penso che Papa Francesco si pensasse a quelle di accuse per quello che dici te a me dispiace me ne sono uscito quel giorno in trasmissione da te a dire questa cosa che avevo detto un'ora prima l'avevo detta a Didi quando stavo alla fine di quelle otto ore io quando ho sentito i giornali devo dire la verità accusarmi in qualche modo che io non avevo fatto i nomi che non mi ero prestato alla collaborazione mi aveva colpito perché io pensavo che si riferisse ai 28 nomi che avevo rilasciato insieme a quel memoriale che avevano poi protocollato e tenuto invece ho capito che si riferivano a volevano sapere chi era effettivamente la persona che mi avesse detto che Giovanni Paolo II la sera noi tanto usciva di nascosto dal Vaticano Pietro Orlandi sa cos'è ci sono sono disponibilissimo con Didi no ecco ci sono sono disponibilissimo disponibilissimo naturalmente con ad andare da Didi a a chiarire perfettamente questa situazione a fare i nomi di queste persone anche perché è una situazione che non riguarda l'inchiesta su Emanuele riguarda un'altra cosa per questo io forse in quel momento non avevo fatto i nomi di queste persone perché non la ritenevo legata all'inchiesta però io sono disponibilissimo quando vuole in qualsiasi momento gliel'avevo detto anche quel giorno mi può chiamare quando vuole andare da lui chiarire fare i nomi di quelle persone chiarire quella situazione allora guardi ok dentro a questa vicenda può portare fuori tantissimi aspetti sgradevoli tanto più dietro Orlandi diciamo serve una grandissima attenzione nel gestire anche le informazioni che lei ha diciamo questo è un elemento in più che accompagnerà questa questa inchiesta è così certo ma io sono stato disponibilissimo io ho dato tutto quello che avevo quelle otto ore non mi sono pesate assolutamente sono stato contento sarei rimasto anche di più perché dopo tantissimi anni avevo l'occasione di raccontare quello che avrei voluto raccontare molto tempo prima quindi vedete c'è stata un'apertura nei confronti del fratello di Emanuele Orlandi di Pietro Orlandi ha dato le informazioni e poi ha parlato di questa cosa di Carol Bojila come avete sentito lui ha dato tutte le informazioni del caso e arriva la lettera a Pietro Orlandi che una missiva che gli arriva scritta su carta caso Orlandi lettera in Vaticano indirizzata al fratello Pietro bugie su Voitila vergognati caro Pietro sei un bugiardo e lo sai quelle vergognose allusioni nei riguardi di Papa Bojila non te le ha riferite nessuno te le sei inventate te ma ti sei screditato da solo inizia così la lettera che si è trovata la madre di Pietro Orlandi nella buca delle lettere parole minacciose che accusano il fratello di Emanuele Orlandi scomparsa 40 anni fa di aver mentito su Papa Bojila la lettera si riferisce alle voci su Carol Bojila da Orlandi rilanciata nell'ultimo mese in alcune interviste che hanno provocato uno sconcerto nelle altre sfere ecclesiastiche e la relazione di Papa Francesco in piazza San Pietro quindi la città del Vaticano si muove contro appunto Pietro Orlandi adesso vediamo un po' pure il suo profilo a me piacerebbe tanto intervistarlo sto cercando di arrivarci ma è complicato parlare con lui è molto complicato fa vedere la lettera scritta a mano e scrive oggi nella cassetta della posta di mia madre in Vaticano è stata lasciata a mano questa lettera in una busta la stupidità di chi l'ha lasciata e presumo scritta è che voleva far credere che fosse stata spedita da altra città quindi fuori dal Vaticano perché si è ancora preoccupato di mettere un francobollo ma non c'è nessun timbro peccato lascia solo il nome di Luciano Dei sembra ma probabilmente falso e nessun contatto questa è la conseguenza di chi ha voluto giocare a fare il giornalista mi si può offendere come voglio non mi interessa ma leggere il Vaticano è stato anche troppo paziente beh insomma questo la gente si è indignata con lui per questa storia dell'aver parlato delle voci che parlano di Giovanni Paolo II che viene menzionato all'interno di questa cosa comunque spero che insomma il modo in cui stiamo approfondendo questo questo caso cercando sempre di rimanere nel non minimizzare e sminuire quello che è l'essere umano e cerco sempre come vedete di andare un po' da una parte all'altra per cercare di di comprendere grazie a tutti 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 grazie a tutti